100 battipagliesi in attesa di una casa ma di appartamenti disponibili ce ne sono pochissimi gli alloggi popolari che possono essere sgomberati sono poco più di una ventina e allora per adesso almeno 4 cittadini su 5 resteranno in attesa di un tetto che non c'è dopo un lavoro che si è protratto per quasi due anni la seconda commissione provinciale preposta all'assegnazione degli alloggi ERP ha trasmesso al comune di battipaglia la graduatoria provvisoria dei cittadini che hanno diritto ad una casa popolare boom di istanze sul tavolo salernitano di via lì presieduto da salvatore russo sono arrivate 163 richieste la commissione provinciale ha escluso 63 concorrenti 8 candidati sono stati estromessi perché erano nell'elenco degli occupanti abusivi e in questa lista compaiono pure i nomi di alcuni delle 15 donne che ottobre del 2013 si opposero con la forza agli sgomberi di Viale Manfredi fuori dalla lista pure i componenti di tre nuclei familiari che già sono assegnatari di un alloggio ERP per il resto i commissari hanno lasciato fuori dalla graduatoria che ha fatto richiesta in ritardo colpo di circa 10.000 euro al cantiere nel rione Pescara per la realizzazione di sei alloggi popolari che sono in via di ultimazione grazie ai fondi destinati al piano città i ladri dopo essere entrati in azione trafugando caldaie, materiale elettrico ed edile ed anche oggetti per lavorare in cantiere hanno tentato di fare visita nuovamente lunedì notte al cantiere ma questa volta non sono riusciti ad entrare nelle abitazioni ormai ultimate i ladri sarebbero stati frenati proprio dalle porte blindate spiega l'imprenditore edile del centro edil Emidio Monaco ho sporto due denunce ai carabinieri di Eboli la prima per il furto subito nel cantiere del rione Pescara la seconda per il tentativo di furto non andato in porto grazie alle porte blindate c'è bisogno di maggiore controllo altrimenti abbiamo paura di lavorare è donna un lavoratore su tre nella filiera produttiva della mozzarella di bufala campana DOP emerge da un'indagine condotta dal Consorzio di tutela della mozzarella lo studio certifica come il 34% dei lavoratori del settore sia rappresentato da donne anche in posizioni apicali nelle aziende un settore peraltro molto giovane visto che il 33% degli addetti ha meno di 32 anni la filiera vanta inoltre il primo casaro in gonnella in un caseificio di baronissi la rappresentanza femminile è significativa anche nel CDA del Consorzio di tutela lo statuto dell'organismo è stato di recente modificato proprio per garantire una maggiore presenza in rosa anche nell'ultimo trimestre del 2017 si conferma intanto il trend di crescita costante della bufala DOP che in Campania e soprattutto in provincia di Salerno spicca per l'ottimo risultato dell'export con un più 16,8% pari a 10 milioni di euro aggiuntivi Il triunfo alle urne non serve solo a portare più rappresentanti in Parlamento e a contare di più ma anche ad avere a disposizione una quantità maggiore di denaro è vero che alla fine sono stati aboliti i rimborsi elettorali ma i soldi arrivano dal Parlamento non bisogna dimenticare infatti che i gruppi parlamentari vanno circa 50 milioni all'anno Considerato che ogni senatore vale 59.383 euro un deputato 47.856 ne deriva che a Palazzo Madama ad esempio ai 5 Stelle andranno a un appannaggio di circa 6.650.000 euro e a Montecitorio 10.863.000 per un totale di circa 17 milioni e mezzo annui con un più 11,2 milioni rispetto all'ultima volta Per quanto riguarda invece la Lega ha conquistato 124 posti alla Camera, 58 al Senato e prima ne aveva rispettivamente 22,11 in termini di contributi passa da 1.052.000 euro a 5.934.000 alla Camera e da 653.000 euro al Senato a 3.400.000 al Senato appunto con più 7,7% una vera boccata d'ossigeno per i leghisti In brutte acque naviga il PD, 8 milioni e mezzo a fronte dei 19 della scorsa legislatura con un meno 10,5 milioni Lo scorso anno i bilanci del partito avevano segnato un deficit di 9 milioni Forza Italia, nonostante i risultati non brillantissimi, riesce ad incassare più contributi 8.400.000 euro a fronte dei 5.200.000 del 2017 Infatti il partito del Cavaliere si era presentato sotto l'insegna del PDL ma aveva perso pezzi per strada come NCD e ALA Da notare anche l'affermazione di Fratelli d'Italia che prima non aveva un gruppo autonomo a Palazzo Madama mentre in questa tornata elettorale ha eletto 16 senatori e 31 deputati che significa un incasso di circa 2.300.000 euro Infine l'EU supererà di poco il mezzo milione di euro non riuscendo neppure a costituire un gruppo autonomo al Senato Música 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 Grazie a tutti.